Ciao a tutti, dopo il video della telepatia vorrei parlare di come fare a schermarsi invece da tutte quelle persone o da quella persona in particolare che percepiamo come invadente, percepiamo come fastidiosa o negativa nei nostri confronti, proprio attraverso la telepatia. Se è vero che la legge dell'attrazione afferma che si sperimenta ciò che si teme, è anche vero che però c'è qualcosa che si può fare per evitare e accelerare tutto questo processo in cui magari siamo capitati. Qualcuno dice che ci si può schermare, magari attraverso una bolla. Personalmente io credo che schermarsi attraverso una bolla per difendersi magari da questa persona negativa è qualcosa che finisce per soffocarci, è una bolla che anziché proteggerci ci opprime. E quindi cosa si può fare? Beh, io penso che sia importante recitare, io recito questo tipo di mantra, fai da me, che dice appunto così, ti lascia andare, mi lascia andare. Nel momento in cui si percepisce appunto che una persona negativa, invadente, in qualche modo si è agganciata a noi a livello energetico, quindi a livello vibrazionale, a livello di frequenze, l'unico modo per alzare le nostre frequenze e quindi in automatico non vibrare più alla stessa frequenza di questa persona e non percepirla più neanche telepaticamente, è quello appunto di lasciarla andare. Lasciarla andare vuol dire lasciare andare lei, lasciare andare quello che ci ha creato, la sofferenza, il rancore, la rabbia, lasciare l'odio, lasciare tutte le emozioni che sono appunto negative e lasciare andare queste emozioni, lasciarle fluire fuori, fuori da noi in modo tale che arriviamo a, perlomeno se non a vibrare alle frequenze dell'amore, a vibrare a delle frequenze che non sono più collegate a questa persona, quindi sono, se vogliamo, diventate un po' neutre, anche se l'energia poi alla fine la si può, essendo appunto energia, è malleabile e si trasforma in tante cose, però cerchiamo perlomeno, se non riusciamo a trasformarla in energia di amore, a ripulirla e la si ripulisce solo in questo modo, lasciando andare questa persona. Ok, sono consapevole che sei agganciata a me, ma io adesso mi staccherò da te, quindi interrompo questo aggancio emotivo, questo aggancio vibrazionale e vibrerò ad una frequenza più alta della tua, in modo tale che io e te non potremo più comunicare telepaticamente, non saremo più connessi telepaticamente. Quindi importante, neanche spaventarsi, quindi tutte le emozioni, quello che è importante è distaccarsi da queste emozioni negative, dalla percezione di queste emozioni negative che in qualche modo ci vanno a colpire, liberarci, liberarci totalmente. E lo si può fare solo lasciando andare. Io ti lascio andare e in automatico tu mi lascerai andare. Ecco, secondo me questo è il metodo più efficace, in quanto schermarsi dalla bolla lo trovo davvero soffocante, opprimente, un modo per rinchiudere, richiudersi in se stessi, ma emotivamente e anche energeticamente, perché è un po' come se questa bolla che si crea per schermarsi da questa persona in realtà è una bolla che ci scherma anche da proprio tutto il fluire positivo dell'energia positiva dell'universo. Quindi non saremo colpiti magari da questa persona in particolare, ma non potremmo gioire, non potremmo usufruire di tutte le altre energie positive dell'universo, perché in qualche modo non riusciranno a entrare neanche le energie positive. Secondo me non vale la regola, mi schermo da quella determinata persona, da quella determinata situazione. Schermarsi serve davvero poco. Ciò che serve è alzare le proprie frequenze in modo tale da non essere più connessi a questa brutta frequenza che ti legava appunto con quella determinata persona. Con questo video è tutto, vi invito a iscrivervi al canale Amore Psiche se il video vi è piaciuto e mettere un like ed attivare la campanella al prossimo video.